Spacchettiamo Spacchettiamo Iniziamo con l'essere di Steamington Fattori campioni Iniziamo con un unboxing Senza danneggiare la confezione mi piacerebbe Direi molto danneggiare la confezione Allora Abbiamo un bellissimo Sentiskorch promo Tre pacchetti Di futuri campioni Una spillettina Niente male Vediamo la pasta di Steamington E il comice che non mi farò vedere Perché ne lo tengo io Perché io sono una brutta persona E Io direi di iniziare presto Poi iniziamo con un'espansione un po' più vecchia Allora Speriamo in bene Siamo tutti alla ricerca del fantomatico Charizard E I futuri campioni sta diventando sempre più rara da trovare Il codice lo metto da parte Sono Uno, due, tre, quattro e cinque Allora Se non ho sbagliato così Allora abbiamo Pokeball Seaslipede Che è la Pre di Sentiskorch Zigzagondi Galad Scrafty Rockraft Zigard Lictini Sonia Kabu Energia Elettro E un Machamp Polo Non male se ne avessi già tipo 20.000 Un Machamp Polo Per i campioni Poi Allora Speriamo in bene Codicino per me Uno, due, tre Ekans With Line on the Galar Carino come artwork Molto bello Scraggy Paroli Colli Obstacondi Galar Reverse Hyper Pozione Leopard Cibo in Scatola Sospetto Ok Energy Acqua E Obstacondi Galar Oro Non male Questo Questo almeno Questo almeno mi mancava ora Cioè mi mancava proprio Obstacondi Galar L'ultimo pochetto di futuri campioni Sono già triste Speravo Meglio Il codicino Il codicino me lo tengo io Ginepro Ginepro Sonia Sharpido Energy Acqua E Una ricerca Accademia Quella professoressa Flora In Ora Cioè Ora Niente di che Veramente Niente di che Mi sarei aspettato Di meglio Avrei sperato di meglio Allora Qua Arriva la ciccia Abbiamo Non so se Che è un po' datato Però lo recupero solo adesso Fiammo scuro Spada e scudo Elite Trainer Box O comunque L'allenatore Un allenatore Fuori classe Se chiamatelo Come volete E Da una vita Che compro Un Elite Trainer Box Quindi Non so Bene Cosa aspettarmi C'è Un grande Vini Cosa so Come aspettarmi C'è tutto Disegnato Dentro Un libricino Con Cosa Cofanetta Che si apre così Abbiamo Il Manuolettino Introduttivo Abbiamo 2 4 6 6 2 4 6 7 8 Pacchetti di Fiamme Oscura Il codice che vi ho sbagliato Ma riscattato Ma riscattolo Per il video Sliv I Divisori Il pacchetto di energie Scusate C'è schifo Quell'isando Ma Oh no I segnalini Danno I dadi E Basta No Se fosse una carta promozionale quì dentro Non c'è una carta promozionale vabbè andiamo di fiamme oscure chiudiamo di qualcos'altro per unboxare le carte perché a stare così viene la gobba perché mettono il codice al contrario Vanillite, Golem, Pansage, Skitty, Klink, Wimpod Reverse, Staravia Dastrix, Distintivo Turbo, Energia, Acqua, Danna, Terra, Energia e abbiamo uno Stunfish di Galar V scusate, mi parteremo di stessi un attimo quindi io direi che questo qua tu vai qua con questa non male, non male come inizio poi abbiamo, se riuscissi ad aprire il pacchetto, no, ho distrutto il pacchetto 1, 2, 3, 1, 2 una bella fuori serie, no eh? un Hyper Bannerby, non mi piace questo artwork, mi spiace Melton, non sapevo essere già fatta delle carte di Melton Snubble Bansuite Nikit Steenie Reverse Gotorita Clank Vanillish Energy Acciaio e un Golisopod Olò non male, non male, non male, non male spero che il pool di oggi non si limiti a questo Stunfish se no potrebbe essere molto, molto triste per questa cosa penso che poi si può trovare roba interessante vabbè, oggi non riesco a non distruggere i pacchetti codice 1, 2, 3 1, 2 Hippopotos Purloin King artwork, molto carino peraltro mi piace molto lo sfondo Phibos Golet Larvitor L'Iron Reverse non male Dutrio di Canto Simisear Energy Calore non male questa però è una carta è una carta di energia però un po' particolare non mi dispiace non male Energy Apsico e abbiamo un MAC di Canto non Holo quindi c'è andata proprio male qua non sono garantite non sono garantite le special cioè non sono garantite le holo almeno un holo comunque una carta rara però almeno c'è una reversa almeno quello 1, 2, 3 1, 2 un altro Purloin Marini invidioso di un corso da quanto pare un altro Meltan Carrablast Sinistia Simisear Reverse Simiseage Klang Toxapex in un artwork veramente bello molto aggressivo Energy a fuoco e Kling Klang Non Holo Non Reverse Panseer Daino molto carino come artwork Daino veramente interessante Kofant Wishy Washy ovviamente sempre nel suo mode molto sad Morelul Dustrix Lunatom Simpo così abbiamo completato il trio delle scimmie Rose carta allenatore Energia immancabile e abbiamo un Manectric Manectric in un bellissimo artwork sarebbe stato carino questo qua vederlo Holo questo sarebbe stato molto bello vedere Manectric in un holo Fletching che lo vediamo in normale non in fuoco non forse Fletching era solo volante quindi lo mettono nel catalogo normale Pasimian Fibas di nuovo Simester Kofant Gotita con un bellissimo sfondo un bellissimo location Reverse tra l'altro Soldorock molto basic Avicoltore Dedenne molto bello però lo vediamo con vediamo tipo psico io tutti quelli che ho visto per le montagne elettro sono molto indietro con le elfite vediamo l'energia elettro è un scisor V molto molto bene molto molto interessante lo mettiamo subito qua con le altre carte e queste le mettiamo qua ultimi due pacchetti 3 1 2 ok perfetto abbiamo Deino Skitty Golet Ippopotas Larvesta Poltergeist Nervous Vibrava Normalissimo Distintivo Turbo un altro Fumogeno questa mancava Energia Erba e Blaziken Olo in un artwork veramente molto molto bello questo mi sarei abbastanza arrabbiato almeno non trovarlo Olo ultimo pacchetto speriamo qualcosa di veramente potente allora Fletchling Electric in un artwork veramente molto bello Pansage Skarmory Starly Rookidi in versione reverse Ursaring veramente molto arrabbiato molto bello il vecchio pc Stini Energia Buio e Talon Flame niente sul giro ci è andata abbastanza male cioè ci è andata relativamente male abbiamo un Stunfish di Galar V e uno sciso V con la carta promo comunque il trucco è molto semplice forse non ho mai aperto questa espansione wow le novità che bello quando apri i pacchetti dici queste mi mancano tutte perché non ho mai aperto questi pacchetti oh la vandagno qua ci muoiono i bambini oh no oh no no non sfigato adesso proviamo quella di Carda quant'è magica la qualità di questo telefono quant'è magica sono una volta scioccata Carda devo fare il trick no aspetta Carda lo sai hai capito il trick come si va no no allora perfetto allora aprirò io anche quello tu apri quelle che hai comprato a Villa Frank non spaccare il pacchetto mi serve l'artwork oh no vabbè basta che non lo rovini davanti filma lui no rimango qua devi metterti in là vado fino là non far vedere il codice oh no vabbè lo riscuterò in posto intanto lo riscuterò prima vabbè io non mi muovo più non voglio guardarlo prima io no fra no no fra io non mi muovo quale sarebbe quella che devo spostare quella che spostare quanto ormai fra falle vedere ormai ormai l'hai già visto tutto ti muovi devo spostare quella tutta sbruncicosa con scritto hai tanti soldi fai vedere scorrine mettiti mettiti sì ma mettiti non vedo dove sta finando sì ma sei tutto attaccato wow 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 che c'è che fa dentro? che stai facendo? che stai facendo? non deve aprirlo stanno? no la bè la apri la piazza Mi stai inquadrando? Sì, ma raffa Oh, anche queste Mi mancano tutte Stanno cadendo le carte Oh, che cavoino Spero un po' di fortuna No Oh, tre pacchetti sfigati